Capitolo ventesimo Uno spettacolo magnifico, anche troppo solenne. Sollevatami un poco, stesi il braccio per tirare la cortina. Dio mio, che urlo! Il silenzio della notte era stato dilaniato da un urlo selvaggio e acuto che percorse Thornfield Hall da un capo all'altro. Il battito del mio polso si arrestò, il cuore cessò di battere, il braccio teso restò paralizzato. L'urlo si spense e non si rinnovò. E in vero l'essere che aveva lanciato non avrebbe potuto ripeterlo subito. Neppure il selvaggio Condor delle Ande avrebbe per due volte di seguito potuto emettere uno strillo simile dalla nuvola che copre il suo nido. L'essere che aveva compiuto un tale sforzo non avrebbe potuto rinnovarlo tanto presto. Esso proveniva dal terzo piano, dalla camera situata proprio sopra la mia. E allora sentì una lotta, che dal rumore pareva terribile e una voce spenta a gridare tre volte affrettatamente «Aiuto! Aiuto! Aiuto!» «Nessuno verrà!» si gridò. E poi, in mezzo allo sbattere e all'urtare indiavolato, distinsi attraverso il soffetto. «Rochester! Rochester, vieni, per l'amor di Dio!» S'aprì la porta di una camera. Qualcuno passò correndo per la galleria. Un altro passo si sentì camminare di sopra e qualcosa cadde. Poi ci fu silenzio. Mi ero vestita alla meglio e, sebbene fossi tutta scossa per l'orrore, uscì dalla mia stanza. Tutti intanto si erano svegliati. Esclamazioni, mormori di terrore risuonavano in ogni camera. Le porte si aprirono una dopo l'altra e la galleria si riempì. Sia gli uomini che le donne avevano lasciati i loro letti e si sentì da ogni parte domandarsi confusamente «Che cosa è successo?» «Chi si è fatto male?» «Cosa è accaduto? Prendete una lampada! È scoppiato il fuoco! Ci sono i ladri! Cosa facciamo?» Se non ci fosse stata la luna, si sarebbero trovati completamente all'oscuro. Correvano di qua e di là, si raccoglievano in gruppo. Qualcuno si inghiozzava. La confusione era indescrivibile. «Dove diavolo è, Rochester? Nel suo letto non c'è!» gridò il colonnello Dent. «Eccomi, eccomi!» Si udì risposta. «State tranquilli, vengo!» Si aprì la porta all'estremità della galleria e avanzò il signor Rochester con una candela. Era appena disceso dal piano di sopra. Una delle signore gli corse subito incontro ed era la signorina Ingram. «Che disastro è successo!» disse. «Parli! Ci dica subito il peggio!» «Ma non fatemi cadere e non strangolatemi!» Gli rispose. «Poiché le signorine Ashton gli si erano avvinghiate e le due vedove in abbondanti panneggiamenti bianchi avevano approdato su di lui come dei bastimenti a vele spiegate. Tutto a posto, tutto a posto!» Esclamò. «Si può ripetere molto rumore per nulla. Signore, tenetevi lontane o si va male!» E infatti il suo aspetto non prometteva bene. I suoi occhi neri mandavano lampi. Fatto uno sforzo per rimanere calmo, aggiunse. «Una domestica ha avuto un incubo nel sonno. È una persona eccitabile, nervosa. Ha creduto di vedere un'apparizione o qualcosa di simile. E ha avuto una crisi di terrore. E ora voglio vedervi ritornare tutti nelle vostre camere. Perché finché la casa è sossopra non può tornare la calma. Signori, abbiate la bontà di dare il buon esempio alle signore. E sono sicuro, signorina Ingram, che lei non si abbandonerà a vani terrori. Amy e Luisa Ashton, tornate al vostro nido da brave colombe. E voi, signore, disse le due vedove, prenderete sicuramente un raffreddore se rimarrete più a lungo in questa galleria gelida. E così, alternando i comandi alle edulazioni, riuscì a farle di nuovo rientrare nelle loro camere. Io non aspettai di ricevere l'ordine di rientrare, ma vi tornai senza essere stata notarra, come ne ero uscita. Però non andai a letto. Anzi, cominciai a vestirmi completamente. Probabilmente soltanto io avevo sentito il fracasso che aveva seguito l'urlo e le parole che ne erano state pronunciate, perché venivano dalla camera sopra la mia. Essi mi convincevano che non poteva trattarsi di un sogno di una domestica presa dalla paura, e che la spiegazione data dal signor Rochester era una semplice invenzione per calmare i suoi ospiti. Così mi vestì per tenermi pronta a ogni emergenza. Dopo essermi vestita, rimasi per lungo tempo seduta accanto alla finestra, a guardare i campi silenziosi e illuminati dalla luna, e ad aspettare non sapevo neppure io cosa. Mi pareva che dopo quello strano grido, quella lotta e quel richiamo, dovesse avvenire qualcosa. No. La calma ritornò. A poco a poco ogni rumore e ogni movimento cessarono, e in meno di un'ora Thornfield Hall era ancora silenzioso come una tomba, sommerso di nuovo nel sonno e nella notte. Frattanto la luna tramontava, e stava per scomparire. Per non rimanere a sedere al freddo e all'oscurità, decisi di distendermi sul letto vestita com'ero. Abbandonai la finestra e camminai senza far rumore sul tappeto. Mentre stavo per togliermi le scarpe, fu picchiato alla porta con cautela. «Chi mi vuole?» chiesi. «È alzata», disse la voce che aspettavo, ossia quella del mio padrone. «Sì, signore». «È vestita?» «Sì». «Esca allora senza far rumore». Io obbedì. Nella galleria c'era signor Rochester con una candela in mano. «Ho bisogno di lei», disse. «Mi segua, non perda tempo e faccia il più piano possibile». Le mie pianelle erano leggere e potei camminare sul pavimento coperto dalla stuoia silenziosa come un gatto. Il signor Rochester scivolò lungo la galleria, salì le scale e si fermò nel basso e tenebroso corridoio del fatale terzo piano. Io lo seguì e mi fermai al suo fianco. «Ha una spugna in camera sua?» Mi chiese in un bisbiglio. «Sì, signore». «Ha dei sali?» «Sì». «Vado a prenderli». Ritornai. Cercai la spugna sul lavabo e i sali nel cassetto e ancora una volta ricalcai i miei passi. Egli stava in attesa. Teneva in mano una chiave. Avvicinatosi a una porticina nera, la infilò nella serratura. Si arrestò e mi rivolse la parola. Non si sentirà male alla vista del sangue. «Credo di no. Non ho mai provato». Sentì un brivido, ma non debolezza nel rispondergli così. «Mi dia la mano», disse. «Non è il momento di rischiare uno svenvinto». Misi le dita nelle sue. «Calde e ferme», osservò. Poi girò la chiave e aprì la porta. «Vidi una stanza che ricordai d'aver già veduta il giorno in cui la signora Fairfax mi aveva fatto visitare la casa. Era rivestita di tappezzeria, ma da una parte questa era sollevata e celava una porta. Questa porta era aperta e lasciava passare la luce della stanza attigua. Sentì un ringhio simile a quello di un cane rabbioso. Il signor Rochester, appoggiata alla candela, mi disse. «Aspetti un minuto». Ed entrò nella stanza vicina. Uno scoppio di risa salutò il suo ingresso. Fragoroso, da principio, e che si concluse col diabolico «ha-ha» di Grace Paul. Essa era là. Egli sistemò qualche cosa senza aprir bocca. Qualcuno gli parlò a voce bassa. Poi egli uscì e si chiuse la porta dietro. «Quei Jane», disse. E girò dall'altra parte del grande letto, le cui cortine attirate nascondevano gran parte della camera. A capo del letto c'era una poltrona. In essa stava un uomo, tutto vestito, ma senza la giacca. Era immobile, con la testa appoggiata all'indietro e gli occhi chiusi. Il signor Rochester alzò la candela e riconobbi nel viso, pallido e inanimato, Mason, lo straniero. Vidi anche che aveva una manica completamente inzuppata di sangue. «Rega la candela», disse il signor Rochester, e me la diede. Poi andò a prendere un catino d'acqua dal lavabo. «Rega questo», disse. «Obedì. Prese la spugna e l'immerse nell'acqua e la passò su quel viso cadaverico. Mi chiese la bottiglia dei sali e glieli misi sotto le narici. Un momento dopo il signor Mason dischiuse gli occhi e mandò un gemito. Il signor Rochester aprì la camicia del ferito, dal quale braccio e spalle erano fasciati. Gli spugnò il sangue che filtrava goccia a goccia. «È molto grave», mormorò Mason. «Ma no, semplice graffio. Non ti spaventare così. Ho un po' di coraggio. Ora andrò di persona a cercare un medico. Sarai in grado di essere trasportato domani mattina, spero. Jane», continuò. «Sì, signore. Dovrò lasciarla per un'ora, magari due, in questa stanza con questo signore. Gli spugnerà il sangue come faccio io, se riappare. Se si sente svenire, gli metta un bicchiere d'acqua sulle labbra e gli faccia odorare i sali. Non gli parli per nessuna ragione. «È ton Richard. Non parlarle se non vuoi mettere in pericolo la vita. Perché se aprirai le labbra e ti agiterai, non risponderò più delle conseguenze». Il povero uomo si lamentò ancora. Non osava muoversi. La paura della morte o di qualcos'altra cosa sembrava paralizzarlo. Il signor Rochester mi mise nelle mani la spugna ormai insanguinata e io mi apprestai a servirmene come aveva fatto lui. Mi guardò un istante e poi disse. Si ricordi. Niente conversazioni. Lascia la stanza. Provai una strana sensazione quando sentii girare la chiave nella serratura e spegnersi il rumore dei passi. Mi trovavo dunque al terzo piano, chiusa dentro una delle celle misteriose. La notte mi circondava ed innanzi lo spettacolo di quell'uomo pallido e sporco di sangue. E non altro che una semplice porta che mi separava dall'assassina. Sì, questo era spaventoso. Il resto era poca cosa. Mi tremavo all'idea che Grace Paul si avventasse su di me. Ma dovevo pur rimanere al mio posto e dovevo sorvegliare quella larva. Quelle labbra bluastre che avevano avuto la proibizione di aprirsi. Quegli occhi irrequieti che pieni di orrore. Ora correvano per la stanza, ora si fissavano su di me. Dovevo continuamente immergere la mano nella catinella d'acqua insanguinata e spugnare goccia di sangue che continuava a filtrare. La luce della candela non smoccolata si affievoliva sempre più. Le ombre si infittivano sulla tappezzeria antica e rabescata che mi circondava. Si incupivano sotto le cortine del grande letto e assumevano strane forme sugli sportelli di un grande guardaroba di fronte. Questi sportelli erano divisi in dodici pannelli, ciascuno riproducente una testa dei dodici apostoli. In cima vera un crocifisso d'ebano con un Cristo morente. E secondo il gioco che le ombre e la luce facevano su di essi, mi pareva ora di vedere il barbuto medico Luca aggrottare le ciglia, ora a ondeggiare la lunga chioma di San Giovanni e di tanto in tanto uscire dal pannello la diabolica faccia di Giuda che si animava per rivelare un qualche segreto del suo signore Satana. Frattanto, mentre vegliavo il ferito, stavo in ascolto se udivo muoversi la bestia feroce nella Tana lì accanto, ma sembrava che la vista del signor Rochester l'avesse stregata. Durante tutta la notte, a molta distanza l'uno dall'altro, non sentii che uno strillo acuto, un breve mugolio canino e un profondo gemito umano. Mi misi a riflettere. Chi era la criminale che viveva in quella casa appartata, che lo stesso padrone di casa non poteva né cacciare né sottomettere? Qual era il mistero che nelle più profonde ore della notte dirompeva ora nel fuoco, ora nel sangue? Chi era l'essere che sotto delle forme femminili emetteva ora una risata demoniaca e ora l'urlo di un uccello da preda? E l'uomo che stava assistendo, questo comune e pacifico straniero, come si trovava implicato nella tragedia? E perché la furia si era gettata su di lui? Che cosa egli cercava in quella parte della casa, un'ora così insolita, invece di starsene a dormire nel suo letto? Avevo sentito il signor Rochester assegnarti una stanza di sotto. Che cosa l'aveva spinto quassù e perché ora sembrava annientato dalla violenza subita? Perché si era docilmente sottoposto al segreto imposto gli dal signor Rochester? Perché il signor Rochester aveva imposto questo segreto? Il suo ospite era stato aggredito ed egli stesso poco tempo prima per poco non era stato vittima di un attentato. Eppure non cercava che di nascondere i due incidenti. Avevo assistito poco prima alla notevole influenza che il signor Rochester aveva sul signor Mason, come l'energica volontà del primo dominava la debolezza del secondo. Le poche parole che si erano scambiate mi confermavano quell'impressione. Era chiaro che nella loro amicizia precedente l'attitudine passiva di Mason era stata abitualmente dominata dall'energia attiva dell'amico. Per quale ragione il signor Rochester era rimasto spaventato al sentire dell'arrivo del signor Mason? Perché il semplice nome di questo essere debole che ora obbediva alle sue parole come un fanciullo qualche ora prima l'aveva colpito come il fulmine colpisce una quercia? Non riusciva a dimenticare il suo sguardo e il suo pallore quando aveva mormorato «Jane, ho ricevuto un colpo, un tal colpo, Jane!» E neppure potevo dimenticare che gli era tremato il braccio quando si era appoggiato alla mia spalla e non era una causa da poco che poteva far tremare l'energico spirito di un Fairfax Rochester. «Quando arriverà? Quando arriverà?» invocavo fra me in quella notte interminabile mentre il mio ferito continuava a perdere sangue e a lamentarsi e nel giorno nell'aiuto arrivavano. Avevo senza tregua inumidite le labbra smorte di Mason e gli avevo fatto odorare i sali ma le mie fatiche parevano senza risultato. Fosse la sofferenza fisica o spirituale o fosse la perdita di sangue o tutte e tre le cose assieme le sue energie stavano rapidamente consumandosi. I suoi gemiti e la sua aria svinita e stranita mi facevano temere che stesse per morire e non potevo neppure parlargli. La candela consumata fino all'estremo si spense. L'osservai allora che si era sbiancato l'orlo delle tende della finestra. L'alba si avvicinava. In quel momento sentì abbaiare Pilot dal canile che era nella corte. La speranza rinacqua. Non era un falso allarme. Infatti cinque minuti dopo la chiave che girò nella serratura mi avvertì che la mia veglia era finita. Non era durata più di due ore ma molte settimane mi erano sembrate più corte. Il signor Rochester entrò insieme al medico. Ora bisogna far presto disse a quest'ultimo. Le do mezz'ora di tempo per disinfettare la ferita e abbendarla e portare da basso il ferito. Ma si può muovere signore? Senza dubbio. E non è nulla di serio. È nervoso e ha bisogno di tirarsi su di spirito. Su, all'opera. Il signor Rochester tirò la cortina sollevò le tende per far entrare più luce possibile e io provai una lieta sorpresa nel vedere che l'alba era già molto avanzata. L'oriente si stava tingendo di rosa. Poi egli si avvicinò a Mason a cui il medico stava già disfacendo la bendatura. Allora, amico mio, come stai? Chiese. È finita per me, temo. Egli rispose debolmente. Neppure per sogno, coraggio. Fra quindici giorni non ci penserai più. Hai perduto un po' di sangue, ecco tutto. Carter, lo rassicuri che non c'è pericolo. Posso farlo in coscienza? Disse Carter, che ormai aveva srotolate le bende. Peccato che non sono arrivato un poco prima. Non avrebbe perduto tanto sangue. Ma che cos'è questa? La carne sulla spalla non è soltanto tagliata. Questa ferita non è stata fatta da un coltello. Vi è un segno di denti. Issa mi ha morso, mormorò. Si è avventata su di me, come una tigre, quando Rochester le ha tolto il coltello. Non avresti dovuto attendere. Avresti dovuto immediatamente venire alle prese, disse il signor Rochester. Ma in quelle circostanze, che potevo fare? Gli rispose Mason. È stato terribile, aggiunse con un brivido. Non me l'aspettavo, pareva così quieta in principio. Ti avevo avvertito, gli rispose l'amico. Ti avevo detto, sta in guardia quando le vai vicino. Inoltre potevi riaspettare domani e andare con me. È stata una follia rischiare una visita di notte da solo. Credevo di farle del bene. Credevi, credevi. Non posso sentir parlare così. Ma siccome hai sofferto e dovrai soffrire per non aver seguito il mio consiglio, non aggiungerò altro. Carter, presto. Il sole sorgerà a momenti e devo farlo uscire di qui. Subito, signore. La spalla è già fasciata. Devo guardare quest'altra ferita sul braccio. E immagino che è stato morso anche qui. Ha succhiato il mio sangue. Ha detto che mi avrebbe asciugato il cuore. Disse Mason. Vidi signor Rochester fremere e una strana espressione di disgusto, di orrore, di odio contrasse il suo viso. Ma disse solo. So, taci, Richard. Non pensare alle sue insulsaggini. Non ripeterle. Vorrei dimenticarle. Fu la risposta. Le dimenticherai quando sarai lontano. Quando tornerai a Spanish Town. Puoi considerarla morta e sepolta. O meglio, non avrai più bisogno di pensarla affatto. Impossibile dimenticare questa notte. È possibile, sì. Fatti coraggio, amico. Due ore fa ti credevi spacciato e ora sei in vita e parli. Ecco, Carter ha finito, quasi. In un lampo ti metto decente. Jaina. E per la prima volta dal suo ingresso si rivolsi a me. Prenda questa chiave, scenda nella mia camera e vada diritto al mio guardaroba. Nel primo cassetto prenda una camicia pulita e una cravatta. Le porti qui in un baleno. Andai, trovai gli indumenti richiesti e ritornai con essi. Ora, disse, vada dall'altra parte del letto finché lo vesto, ma non lasci la stanza, posso avere ancora bisogno di lei. Obedì. Non si muoveva nessuno mentre si trovava da basso, chiese il signor Rochester. No, signore. era tutto quieto. Ti porteremo via per benino, Dick. E sarà meglio sia per te che per la povera creatura qui accanto. Ho fatto da tempo tutto il possibile per evitare lo scandalo e non amerei che scoppiasse adesso. Ecco, Carter, mi aiuti a infilargli il panciotto. Dove hai lasciato il tuo cappotto foderato di pelliccia? So che non potresti percorrere un chilometro senza di esso in questo dannato crema. In camera tua, Jane, corra nella camera del signor Mason, quello vicino alla mia. E prenda il cappotto. Andai e tornai indietro con un immenso mantello doppio guarnito di pelliccia. Ora ho un altro viaggio da farle fare, disse il mio instancabile padrone. Deve tornare in camera mia. Che fortuna, Jane, che ha le pianelle di velluto. Una messaggera in scarponi non sarebbe stata al caso. Deve aprire il cassetto di mezzo nella mia toilette e prendere una toilette e un bicchiere che vi troverà. Presto. Al volo andai e tornai portando toilette e bicchiere. Così va bene. Ora dottore mi prenderò io la responsabilità di somministrare una dosa di questo cordiale al mio amico. La comprai a Roma da un ciarlatano italiano, un tipo che lei avrebbe preso a calci, Carter. È un rimedio di cui non si può abusare ma in certe occasioni come per esempio in questo momento va bene. Jane, un po' d'acqua. Egli resta il bicchierino e io lo riempì metà con l'acqua della bottiglia e metà con il liquido. Così basterà. Ora apra la fiala. Obbedì. Egli fece cadere una dozzina di gocce di un liquido scarlatto nel bicchiere e lo presentò a Mason. Bevi, Richard, e ti rianimerà per un'ora opprossa poco. Ma farà male. È eccitante. Su, bevi, bevi. Il signor Mason obbedì perché era inutile resistere. Ormai era vestito. Appariva ancora pallido ma non era più imbrattato di sangue. Il signor Rochester lo lasciò ancora per tre minuti seduto dopo che aveva trangugiato il liquore. Poi gli prese il braccio. Sono sicuro che ora puoi reggerti in piedi. Disse. Prova. Il paziente si alzò. Carter, lo prenda per l'altra spalla. Un po' di energia, Richard, cammina. Ecco qua. Mi sento meglio. Osservò il signor Mason. Lo sapevo. Ora Jane ci preceda. Scenda dalla scala di servizio. Tolga il catenaccio della porticina di fianco e dica di tenersi pronto al conducente della vettura postale che vedrà nel cortile. O subito fuori del cancello. Perché gli ho raccomandato che le ruote non facciano rumore sulla pietra. Noi veniamo. E Jane? Se incontra qualcuno venga in fondo alla scala e dia un colpetto di tosse. Erano ormai le cinque passate e il sole stava per sorgere. Ma io trovai la cucina ancora buia e silenziosa. La porticina era sprangata. L'apri facendo meno rumore possibile. Il cortile era completamente deserto ma il cancello era spalancato e là fuori stazionava una vettura con i cavalli già attaccati e il vetturino in cassetta. Mi avvicinai e gli dissi che i signori stavano per arrivare ed egli annui. Poi mi guardai intorno attentamente e mi misi in ascolto. Dappertutto regnava la calma. Nelle camere della servitù le tende delle finestre erano ancora abbassate. Solo gli uccellini cominciavano a pigolare sugli alberi del frutteto biancheggianti di fiori e quei rami lasciavano penzolare candide ghirlande su un muro che cintava un lato del cortile e si sentivano i cavalli scalpitare nelle chiuse stalle. Tutto il resto taceva. I signori comparvero. Mason sostenuto dal signor Rochester e dal medico sembrava che camminasse con abbastanza scioltezza. Lo fecero salire sulla carrozza e poi salì anche Carter. Si prenda cura di lui disse il signor Rochester a quest'ultimo domani o dopo farò una corsa a cavallo fin da lei per vedere come va. Richard come ti senti? L'aria fresca mi rianima Fairfax. Lasci lo sportello aperto da una parte vento non ce n'è arrivederci Dick. Fairfax ebbene che cosa c'è? Che non stia senza cure che sia trattata quanto è possibile mi temente che egli si arrestò e scoppiò in pianto. Faccio del mio meglio l'ho sempre fatto e lo farò rispose il signor Rochester e chiuse lo sportello della carrozza che si mise in moto. Dio voglia che tutto sia finito aggiunse il signor Rochester mentre chiudeva e sprangava il pesante cancello. Poi si mosse a passi lenti e con aria assente verso la porta del muro di cinta del frutteto. Immaginando che non avesse più bisogno di me mi preparai rientrare in casa ma invece lo sentì chiamare ancora Jane. Aveva spalancato la porticina e stava lì ferma ad aspettarmi. Venga a ristorarsi per pochi minuti disse quella casa non le sembra una spelonca. Mi sembra una splendida magione signora. Mi ho cecata dalla malia della gioventù rispose e guarda attraverso il fascino delle illusioni. Non può accorgersi che le dorature sono scrostate le tappezzerie di seta rabbescate dalle tele di ragno che il marmo è vile ardesia che i legni lucidi sono pezzi di scarto. Qui invece e indicò il recinto ombreggiato in cui penetravamo. Qui è tutto vero dolce e puro. Camminava per un viale costeggiato da siepi di bosso che aveva da una parte albere di mele di pere e di ciliegie e dall'altra una bordura di fiori di vari tipi garofani e garofanetti selvatici margherite viole che spuntavano fra labbrotano rose canine e varie erbe odorose. Avevano la freschezza di una mite mattina di aprile che seguiva un succedersi di acquazzoni. Il sole a oriente stava spuntando il suo vulgore illuminava gli alberi fruttiferi umidi di rugiada e risplendeva sui tranquilli viali sottostanti. Jane vuole un fiore. Egli colse una rosa in boccio la prima di un cespuglio e me la offrì. Grazie signore. Le piace quest'alba Jane questo cielo a nuvole alte e leggere che si disseparano con l'approssimarsi del calore questa atmosfera tranquilla e balsamica. Sì moltissimo. Ha passato una strana notte Jane Sì signore è pallida ha avuto paura quando l'ho lasciata sola con Mason temevo che venisse fuori qualcuno dalla stanza interna ma io avevo chiusa la porta chiave e avevo la chiave in tasca sarei stato un pastore ben negligente se avessi lasciato incustodito l'agnello e il mio agnello prediletto così vicino la tana del lupo era al sicuro Grace Paul vivrà ancora qui signore oh sì ma non se ne preoccupi se la cacci fuori dalla testa eppure mi pare che la sua vita non sia sicura finché Grace rimane non abbia paura starò in guardia il pericolo che temeva ieri sera è passato ora signore non posso garantire nulla finché Mason non avrà lasciato l'Inghilterra e neppure allora per me vivere Jane è come stare sul cratere di un vulcano che può ogni momento sputar fuoco e lava ma il signor Mason sembra un uomo che si lascia guidare facilmente è evidente che lei ha una totale influenza su di lui non le farà mai del male volontariamente oh no Mason non mi farà mai del male volontariamente ma senza intenzione per una parola imprudente mi potrebbe privare se non della vita per sempre della felicità gli dica di essere prudente gli dica quel che teme e gli mostri come evitare il pericolo rise di un riso amaro e poi afferrò e subito liberò la mia mano se potessi agire in questo modo Genua dove sarebbe il pericolo sarebbe annullato in un istante da quando ho conosciuto Mason non ho fatto che dirgli fa così e lui l'ha fatto ma in questo caso non posso dargli ordini non posso dirgli sta attento a non nuocermi Richard perché l'essenziale è che ignori che può nuocermi lei sembra sbalordita ma io la farò sbalordire ancora di più è la mia piccola amica non è vero provo piacere a servirla e obbedirla in tutto ciò che è giusto precisamente lo vedo vedo trasparire una schietta contentezza dal suo passo dai suoi occhi e dal suo viso quando mi aiuta e lavora per me e con me in quello che caratteristicamente chiama tutto quel che è giusto perché se le ordinassi qualcosa che lei pensa che è male non avrebbe il pie veloce la mano svelta e lo sguardo vivace e l'espressione animata la mia amica si allontanerebbe da me pallida e quieta e direbbe no signore questo è impossibile non posso farlo perché non è bene e sarebbe irremovibile come una stella fissa bene anche lei ha del potere su di me e potrebbe farmi del male eppure non oso mostrarle il mio punto vulnerabile per paura che benché fedele e amica non mi colpisca immediatamente se lei ha da temere più da me che da Mason signore può stare sicurissimo io faccia che sia così ecco Jane in un rifugio si segga il rifugio era un arco scavato in un muro coperto di edera conteneva un sedile rustico il signor Rochester lo occupò lasciando posto per me ma io rimasi in piedi segga disse il sedile è abbastanza largo per due perché esita a sedersi accanto a me non è bene Jane gli risposi sedendomi sarebbe stato poco saggio a rifiutare ora mia piccola amica mentre il sole beve la rugiada mentre tutti i fiori di questo vecchio giardino si svegliano e si aprono e gli uccelli per i campi ricercano il primo pasto per i loro piccoli e le api mattiniere si mettono all'opera io le sottoporrò un caso di coscienza si sforzi di immaginare che riguardi lei stessa ma prima mi guardi e mi dica che si sente a suo agio e che non teme che io sbagli a trattenerla o che lei sbaglia a rimanere no signore non ci trovo nulla di strano bene allora Jane chiami in aiuto la sua fantasia supponga di non essere più una ragazza ben allevata e disciplinata ma un ragazzo capriccioso malavezzo fin dall'infanzia si figuri di essere in un remoto paese straniero ed aver commesso un errore iniziale le cui conseguenze la perseguiteranno per tutta la vita e corromperanno tutta la sua esistenza faccia attenzione non parlo di un delitto non parlo di un fatto di sangue o di un gesto criminale che avrebbe potuto condurre l'autore di esso dinnanzi alla giustizia parlo di errore a lungo andare le conseguenze di esso le sono diventate insopportabili lei cerca in ogni modo di liberarsene misure insolite ma né colpevoli né illegali ma si sente ancora infelice perché proprio all'inizio della vita la speranza l'ha abbandonato al mezzogiorno della vita il suo sole si è eclissato e capisce che resterà così fino al tramonto tristi e vili i ricordi sono l'unico cibo della sua memoria così erra cercando pace nell'esilio cercando la felicità nei piaceri dei sensi che ottundono l'intelletto e smorzano la sensibilità torna a casa col cuore stanco e l'animo vizio dopo anni di lontananza volontaria fa la conoscenza di una persona non importa dove e come e scopre in essa delle qualità di bontà e intelligenza che in vano ha cercato per vent'anni ed esse si presentano fresche e integre senza l'ordura e senza macchia la compagnia di questa persona la rigenera sente che sono tornati i bei giorni le aspirazioni nobili i sentimenti puri desidera ricominciare la vita e passare il resto della sua vita in maniera più consona la sua anima immortale per raggiungere questo scopo le è permesso di scavalcare un ostacolo un impedimento puramente formale che non è né giustificato dalla sua coscienza né approvato dal suo giudizio egli si fermò come per avere una risposta ma che cosa dovevo dirgli un qualche buon angelo mi aveva suggerito una risposta assennata e soddisfacente vana speranza il vento di occidente storniva fra le edere intorno a me ma nessun clemente ariele si fece interprete del suo linguaggio gli uccelli cantavano sulla sommità degli alberi ma il loro canto rimase inarticolato il signor Rochester riprese a parlare quest'uomo errabondo e colpevole ma oggi desideroso di pace e pentito ha il diritto di sfidare l'opinione pubblica attaccandosi per sempre a questa graziosa e gentile sconosciuta per ritrovare la pace spirituale e il piacere di vivere signore risposi la pace di un errabondo o la conversione di un peccatore non dovrebbero mai dipendere da una creatura umana gli uomini e le donne sono mortali i filosofi mancano di saggezza e cristiani di bontà se qualcuno di sua conoscenza soffre e ha errato gli dica di guardare più in alto del piano dei suoi simili per trovare la forza che purifichi e cicatrizi le ferite ma lo strumento occorre lo strumento dio che opera preordina lo strumento sono stato io per parlare chiaro quell'uomo mondano dissipato e inquieto e che crede di aver trovato lo strumento nella sua salute in si fermò gli uccelli continuavano a cinguettare le foglie assormire lievemente quasi mi meravigliai che non interrompessero i loro canti e i loro frusci per ascoltare le rivelazioni del signor Rochester ma avrebbero dovuto attendere troppo tempo tanto si protrasse il silenzio alla fine guardai verso quel parlatore riluttante e gli mi fissava con ardore piccola amica disse in un tono del tutto diverso mentre anche l'espressione del viso prima dolce e grave divenne dura e ironica ha notato la mia tenerezza per la signorina Ingram non crede che se la sposassi sarei profondamente rigenerato si alzò immediatamente camminò fino all'estremità del viale e tornò indietro cantarellando un'aria Jane Jane disse fermandosi dinnanzi a me lei è pallidissima per le veglie non mi manda al diavolo per aver disturbato il suo riposo mandarla al diavolo no signore stringiamoci la mano per confermare queste parole che dita fredde erano più calde la notte scorsa quando le ho toccate dinnanzi alla porta della camera misteriosa Jane quando veglierà con me di nuovo quando le potrò essere utile signore per esempio la vigilia del mio matrimonio sono certo che non potrò dormire mi prometta di stare alzata a tenermi compagnia a lei posso parlare della mia amata poiché ora l'ha vista e conosciuta sì signore un monumento un vero monumento Jane grande bruna e formosa con le chiome certo come quelle delle dame cartaginesi dio mi salvi ci sono dente e lin nelle scuderie rientri per il portoncino tenendosi lungo i cespugli mentre prendevo per una parte egli prendeva per un'altra e lo sentì nel cortile vivacemente dire Mason si è alzato al più presto di voi questa mattina è partito prima dell'alba e io mi sono alzato alle 4 per salutarlo bentornati su narrazioni senza importanza il nostro Rochester sta un po' giocando al gatto col topo con la povera Jane e dopo questa nottata infernale insomma sembra voler finalmente aprire un po' il suo cuore ma poi si richiude immediatamente come sempre vi ringrazio per essere state mia compagnia se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo iscrivendovi al canale mettendo un like un commento condividendo il video potete venirmi a trovare anche su Instagram narrazioni senza importanza e come sempre vi aspetto per il prossimo capitolo alla prossima un commento vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio Grazie a tutti.